Ma se ci pensi bene, una barista è un po' come un'insegnante o una dottoressa che ti va a obbligare? Vuoi farti sotto? Buongiorno da ragazzi Oh, dolce corrente! Torna pure al Witch's Pit e ti preparerò dei drink speciali Oh no! 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 Torna pure al Witch's Pit e torni presentabile ma qua potrai bere gratis tutta la vita! Anzi no! Una settimana! Te lo sei meritato! Figa, da una settimana, da tutta la vita a una settimana! Non mi dà neanche da bere! Piccolate! Armi! Oh! Oh! Guardiamola ma figa, ormai sono autodattate figa! Oh! F部分 passi! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.